Per quanto riguarda il coinvolgimento cittadino-giovanile, si confermo che è più difficile forse mantenere un engagement costante per i giovani cittadini e coinvolgerli sul lungo termine in una prospettiva più stabile. Quello che noi stiamo facendo come ALDA è implementare delle attività nel quadro di un hub tematico dedicato allo youth empowerment, quindi all'empowerment giovanile e all'educazione. Tra i nostri principali progetti e di particolare rilevanza quest'anno abbiamo un'iniziativa dedicata alle elezioni europee che coinvolge 56 ragazzi in tutta Europa, in molti paesi europei, che stanno portando avanti delle iniziative locali e una campagna online proprio per promuovere il coinvolgimento cittadino dei giovani anche verso le prossime elezioni europee che si terranno a giugno 2024. È un'esperienza di successo nel nostro caso, sta andando bene, ma riconosco la difficoltà nel mantenere questo coinvolgimento attivo. Cercheremo di fare del nostro meglio per avere poi un impatto anche di lungo termine e oltre alle elezioni. Grazie.